Nel corso della vita è inevitabile avvertire dolori, malesseri, stanchezza, e va bene così. Siamo umani e non possiamo sempre sentirci al meglio. Ma a volte, con una piccola spinta ai nostri organi, questi possono rilasciare benefici per la salute che vi sorprenderanno. Esiste un modo interessante e non convenzionale con cui le persone possono aumentare la salute dei propri organi, aiutandovi a sentirvi rinnovati e al meglio. Il metodo consiste nell'utilizzare delle mollette da boccato e nel posizionarle in vari punti delle orecchie. Perché proprio le orecchie? Ogni orecchio contiene una mappa riflessa completa del corpo, ricca di terminazioni nervose e di collegamenti multipli con il sistema nervoso centrale. Sulle orecchie ci sono sei punti diversi che si rivolgono a regioni organi specifici del corpo. Posizionate una molletta sull'area di vostra scelta e scoprite i benefici per la salute. Numero 1. La parte superiore dell'orecchio. La parte superiore dell'orecchio è direttamente collegata alla schiena e alle spalle. Applicando una pressione su questo punto per un minuto al giorno, contribuirete a ridurre la tensione accumulata in quelle zone. Numero 2. La parte superiore della curva dell'orecchio. Questo punto dell'orecchio è collegato agli organi. Pertanto, se si avverte un dolore o un disagio interno, è bene posizionare una molletta su questo punto per trovare sollievo. Numero 3. La parte medio-alta dell'orecchio. Questa parte dell'orecchio è collegata alle articolazioni. Esercitate una pressione su questo punto per alleviare la rigidità o il dolore delle articolazioni dopo una lunga giornata alla tastiera. Numero 4. La parte medio-bassa dell'orecchio. Pizzicando la parte medio-bassa dell'orecchio, si ottiene un sollievo per i seni paranasali e la gola. Questo può essere molto utile quando si vuole dormire bene, ma si ha il naso chiuso o una sensazione di congestione. Numero 5. Appena sopra il lobo dell'orecchio. Il punto appena sopra il lobo dell'orecchio è associato alla digestione. Applicando una molletta in questo punto, si può contribuire a ridurre i dolori digestivi e di stomaco. Si può usare come mezzo per prevenire questi disturbi. Numero 6. Il lobo dell'orecchio. Questo punto è collegato alla testa e al cuore. Applicare una pressione in questo punto favorisce la salute del cuore e allevia emicranie, e cefalee da pressione. Condividete questo video con i vostri amici e familiari e non dimenticatevi di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per altre curiosità interessanti. Grazie. 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 Grazie.